Buffy l'ammazza vampiri, decima stagione a fumetti, secondo volume, sempre edito da Saldapress. Wobalaba dab 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 e bentornati su un nome ammazzo, bentornati nella rubrica fumetti e bentornati nella rubrica Buffy verso, Buffy l'ammazza vampiri, Angel, il vampiro con l'anima, che dir si voglia. Se avete già scoperto questa rubrica per i miei video sul reboot, i miei video sul riassuntone della stagione 8, della stagione 9, sempre a fumetti, che erano usciti qualche anno fa, anche proprio in vista di questa decima stagione che finalmente è arrivata anche in Italia dopo diversi anni, saprete che sono un grande appassionato di Buffy, però il primo volume della stagione 10 non mi aveva colpito particolarmente. Dopo tanti anni di attesa mi sono reso conto di quanto l'assenza alla scrittura di Joss Whedon risenta sulle storie in questione. Il secondo volume purtroppo non fa eccezione, ma ha dei guizzi molto interessanti di cui adesso andiamo a parlare. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video, e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che sono fan del Buffyverso e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo volume della decima stagione in generale, cosa vi aspettate dal finale se vi è piaciuto il mio riassunto questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, su cui parlo anche di altre cose. I due scrittori di questa decima stagione sono Christoph Cage, che è colui che ha anche scritto la sceneggiatura di Amazing Spider-Man, non so se intendano la 1 o la 2 o in generale di Amazing Spider-Man, e Nicholas Brandon, ovvero l'attore che ha interpretato Xander. E infatti Christoph Cage, nella sceneggiatura di Amazing Spider-Man, dov'è che spiccava di più? Nella storia d'amore tra Gwen e Peter Parker, e anche qua, in questa decima stagione, quello che spicca di più sono le diatribe amorose tra i protagonisti, e per carità, ci sono sempre state, anche nelle stagioni televisive, non solo nelle stagioni a fumetti, ci sono state anche nelle stagioni a fumetti precedenti, ma non sono mai state preponderanti, non sono mai state fastidiose alla Grace Anatomy, alla Romanzo Rosa, sono sempre state contrapposte a una metafora in cui si combatteva un demone, si combatteva magari il mostro della settimana, si combatteva un big bad che durava tutta la stagione, e nel frattempo succedevano delle analogie che facevano riflettere i protagonisti sulla loro vita, che potevano appunto essere metafore rispetto a quello che stavano vivendo a livello soprannaturale. E questo è un po' il modus operanti di Joss Whedon, di Dylan Dogg, eccetera, eccetera. Qua la parte metaforica è del tutto assente, abbiamo praticamente Buffy e Willow che vivono assieme, sono di Rimpettai, Dixander e Spike, hanno anche fatto una citazione a Friends, ok va bene tutto molto divertente, però davvero stanno copiando palesemente una sorta di teen drama in cui ci sono solo intrallazzi d'amore e la parte sovrannaturale è di contorno. Inoltre, questo secondo numero pare non essere nemmeno coerente a se stesso, cioè non pare essere nemmeno coerente al primo volume. Il primo volume, il grosso problema della stagione 10, il grosso problema da affrontare era che la magia era stata ricreata da zero grazie a un nuovo seme che era stato distrutto nel finale della stagione 8, abbiamo avuto tutta la stagione 9 priva di magia. E la stagione 10 ha un nuovo seme della magia creato anche dalla potenza di Willow e di Illyria combinati e questo nuovo seme ha delle nuove regole che per qualche strana ragione possono essere scritte a piacimento sul libro Vampire, che non è mai stato citato essere un libro magico, ma pare che lo sia, come il libro delle ombre di streghe, vabbè, lasciamo perdere. Questo era il grosso problema da affrontare. Se nel primo tomo, questa stagione credo sia composta da tre tomi totali, quindi se nel primo tomo questo era un pochino il problema che ha accompagnato per tutta la durata della stagione, quindi per un terzo della stagione, in questo secondo tomo questo problema è praticamente marginale, quasi totalmente dimenticato, se non in una piccola citazione in cui Buffy appunto nomina questo problema, ma anche gli stessi nuovi vampiri con i nuovi poteri hanno tutti un ruolo marginale, è come se si fossero già dimenticati di questa cosa. Un altro problema inizia a fare capolino e a questo punto, sperando che ci sia continuità nel terzo tomo, spero diventi poi il problema principale di questa stagione, ovvero che nonostante abbiano cercato di riscrivere le leggi della magia per fare in modo che dalle altre dimensioni i demoni pandimensionali facciano molta più fatica a entrare e appunto disturbare la nostra dimensione, il nostro pianeta, ciò nonostante ci sono i lord infernali che comunque riescono in qualche modo a passare. E in questo numero i lord infernali iniziano un po' a farla da padrone, si nota che iniziano ad esserci sempre più lord infernali presenti sul nostro piano e sembra che cerchino di comportarsi come se fossero dei boss della malavita dal punto di vista demoniaco. Questa non è una novità, lo abbiamo già visto anche nella quinta stagione di Angel, il circolo della spina nera fondamentalmente era gestito da dei lord infernali, se così possiamo definirli. E in questo numero spiegano bene la differenza tra gli antichi, ovvero i demoni che c'erano prima della comparsa dell'uomo, che sono quelli enormi, quelli grossi come il sindaco che abbiamo visto nel finale della terza stagione o come Illyria nella sua piena forma che abbiamo visto nella serie a fumetti Angel After the Fall. I lord infernali non sono così grossi e soprattutto non sono immortali come gli antichi. Quindi si possono comunque uccidere in qualche modo se non fosse che appunto sono pandimensionali e quindi non stanno alle regole nuove o vecchie che siano del nostro piano, ma stanno alle regole della dimensione da cui vengono. E questa direi che comunque è una bella scusa per rendere il nemico abbastanza difficile da sconfiggere, non troppo semplice con le nuove regole della magia. Quindi di questo gliene do atto. Ciò nonostante non si sente una grossa minaccia incombente, non si sente un big band preponderante che comandi su tutto, come ci avevano abituato soprattutto le ultime stagioni di Buffy. Ci dovrebbe essere un grosso cattivo che tenga le fila di tutta la trama orizzontale. Qua in realtà non c'è, a meno che non si adoffri né il nuovo consiglio magico che stia tramando nell'ombra. E questo potrebbe essere l'unico filo conduttore, ma anche se fosse sarebbe molto debole finora. Ci sono dei, diciamo, boss di livello un po' più grossi dei vampiri, però nulla che dia preoccupazione. Abbiamo questo personaggio, questo demone, che si chiama Arceus, che pare essere appunto un lord infernale che viene da un altro piano dimensionale, che in qualche modo è collegato alla stirpe vampiresca che viene fondata dal maestro. Quindi il maestro Darla, Angelus, Drusilla e infine William il Sanguinario, ovvero Spike. Anche questo mi sembra che cozzi un pochino, perché è come se fosse il demone primordiale che morse il primo uomo a diventare un vampiro, fondamentalmente. Quando in realtà abbiamo visto nel primo volume e anche nella stagione precedente che il demone antico era Maloker, quello che sembrava un enorme pipistrello. Qua invece abbiamo questo Arceus, quindi non ho capito bene in che modo siano collegati Arceus e Maloker, però non lo so, mi sfugge. A meno che Arceus non fosse davvero uno dei primissimi vampiri, quindi comunque discendente da Maloker, ma antecedente al maestro. Il maestro pare che appunto discenda da questa stirpe di Arceus e si sentiva lui stesso una sorta di, non dico reincarnazione di Arceus, ma portava avanti con sé questa essenza di Arceus. Di conseguenza tutte le persone generate da lui hanno una piccola parte di Arceus e in un certo senso possono essere controllate quando il demone è molto vicino a loro. Questa cosa che Spike si ricorda di uccisioni che lui non ha compiuto, ma che sono legate alla sua stirpe vampiresca, non sono una novità. E questa cosa mi è piaciuta davvero tanto, che abbiano tirato fuori, anche se secondo me non l'hanno fatto apposta e non se lo sono manco ricordato, però hanno tirato fuori una puntata di Angel, della prima stagione, dove anche Angel si ricordava di crimini che non stava commettendo, ma che aveva commesso un vampiro che lui aveva generato in passato. Tra l'altro vampiro interpretato da Jeremy Renner, l'occhio di falco degli Avengers. Mi piace che anche questo Spike con l'anima faccia di tutto per non fare del male ai propri cari, quindi nel primo istante in cui ha un dubbio di poter nuocere come era successo appunto quando era posseduto dal primo, quando il primo gli aveva messo questo trigger nel cervello che lo faceva uccidere, si fa incatenare da Willow e Giles per verificare di non aver davvero commesso queste morti, questi omicidi. In tutto questo, devo dire questa parte è quella che mi è piaciuta di più, in tutto questo Buffy e Spike cercano finalmente di avere una relazione adulta sana senza che si prendano a botte, senza che distruggano palazzi, senza che nessuno sia manipolatorio e tossico verso l'altro e pare che stiano ponendo delle ottime basi. Devo dire che comunque una relazione da questo punto di vista tra Buffy e Spike non l'abbiamo mai vista, quindi sono felice finalmente di vedere, anzi devo dire che forse è passato fin troppo tempo al punto quasi che, non dico non mi interessi più, però pensavo a questo punto se ne potesse parlare nella stagione 8 o nella stagione 9, mi sembra un po' fuori tempo massimo, ma è comunque gradevole da vedere perché è una nuova dinamica ed è anche molto interessante vedere come a questa nuova dinamica reagisca l'altro eterno amore vampiro con l'anima di Buffy che è appunto Angel. La presenza di Angel arricchisce davvero tanto in questa storia. Vi ricordo che Angel sta continuando con il suo spin-off, Angel e Fate, sempre ambientato a Londra, sempre ambientato in Magic Town, anche questa parte della città di Londra che è stata resa magica dal finale della stagione 1 di Angel e Fate. Peccato che qua in Italia Salda Press non lo stia facendo uscire, io vorrei tanto che lo facesse uscire anche in contemporanea, però ammetto che i crossover non sono tanti, quindi non c'è problema. Però spero di leggere anche questo perché finora Angel è stato, a livello fumettistico, a mio parere è stato più interessante della stagione, della serie principale. Mi piace vedere come Angel faccia un punto su se stesso, come un po' tutti i protagonisti facciano un punto finora su loro stessi. Mi piace vedere come Xander per la prima volta cerchi di riappacificarsi con Angel e il fatto che sia stato scritto da Nicholas Brandon medesimo gli dà un certo valore aggiunto. Questa cosa mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto anche che sia servito a far capire come gli immortali, come i vampiri, fondamentalmente non crescano, non maturino a differenza degli esseri umani e continuano a percorrere gli stessi schemi. Mentre Spike è cambiato di recente proprio perché ha un'anima di recente, Angel noi lo conosciamo da più di un secolo con questo tipo di anima, con questo tipo di maledizione. E comunque da più di un secolo lui non sta cambiando. In un certo senso non manda giù benissimo la storia di Spike e Buffy, ma dal momento che Buffy è felice lui è contento, sa che tanto il loro amore ormai è parte del passato e ciò nonostante è molto cinico comunque anche sulla loro storia perché dice comunque non durerà. Piccola parentesi su Andrew e sul suo coming out. Allora, Andrew è sempre stato un personaggio molto buffo, molto fastidioso dal mio punto di vista, cioè quel buffo che non lo vuoi tra i piedi, cioè vedi che non si è mai integrato con la gang perché comunque è un ex cattivo, ma non ha neanche quel carisma per passare al lato dei buoni e essere realmente utile. È sempre stato fondamentalmente un di più che ci siamo accollati perché come facevi a eliminarlo? Doveva andare via e avere un suo percorso, invece l'hanno tenuto sempre nella Scooby Gang perché volevano tenerselo vicino perché sennò faceva danni. Lo abbiamo abbandonato nell'ultimo numero che cercava di riportare in vita Victim John, Jonathan, e sembrava appunto che non avesse imparato niente dai suoi errori di tutta la vita. Questo percorso di lui che voleva riportare in vita Johnny era abbastanza interessante. Qui pare che lo abbiano abbandonato quasi subito e per qualche ragione gli hanno fatto fare una sorta di coming out forzato dove appunto tutti si rendono conto che lui è gay tranne lui, lui lo scopre, ah sì ma lo sapevate tutti tranne me, sì forse è vero sono gay, lui beve una pozione per accelerare il tutto, una pozione che ti rende la versione migliore di te stesso, quindi diventa una sorta di Capitan America super muscoloso e si rende conto che il suo reale se stesso è attratto dalle persone dello stesso sesso e non c'è nulla di male. Però la cosa bella di Andrew era anche questo suo essere, passatemi il termine, l'eterno nerd stereotipato, vergine, che non aveva ancora avuto nessun tipo di esperienza. Era palese che era omosessuale a tutti, persino Angel quando incontra Andrew gli dice ah perché non lo eri prima, ero convinto che lo sapessi già, quindi tutti sapevano dell'orientamento di Andrew, taranne Andrew medesimo. Ma sarebbe stata una splendida occasione per farglielo scoprire in maniera graduale, in maniera in cui lui proprio si affacciava al mondo della socialità con le altre persone e scopriva appunto di essere più sociale, di essere più attratto dagli altri maschi. Qua invece da una pagina all'altra, boom, ah sì, sono gay. Un'occasione sprecata perché potevano davvero esplorare il coming out di una persona che partiva da non aver avuto nessuna esperienza, nessuna esperienza in assoluto, a differenza di Willow, che ha avuto un'esperienza con Oz prima di avere un'esperienza con Tara. Andrew era proprio un'altra tela bianca su cui creare un altro percorso e l'hanno davvero sprecato. Non so se volevano aggiungere un palese carattere gay nella gang e se questo era l'intento, mi dispiace ancora di più perché c'erano questi due fantastici personaggi che hanno silurato nella stagione 10. Vi ricordate? Questi avevano fatto una piccola comparsa nella stagione 9. C'erano questi cacciatori di demoni, cacciatori di vampiri autoproclamatosi che in qualche modo nella stagione 10 sembrava avessere una connessione con le cacciatrici e niente, sono spariti. Li hanno fatti vedere in due pagine, qua nel secondo tomo non ci sono. Personaggi nuovi che avrei avuto il piacere di vedere inseriti nella gang non ci sono. Stanno approfondendo i personaggi storici che però ormai non hanno più nulla da dire. Un vero, un vero peccato. Anche questo coming out di Andrew poteva essere gestito mille volte meglio invece l'hanno usato come gag e francamente non l'ho apprezzato per niente. Il bello di Andrew era anche questo davvero essere fuori dal mondo, vivere in un mondo suo, in un contesto sociale dove lui non sapeva nemmeno di essere circondato dagli altri. Non lo so, l'ho visto tutto troppo frettoloso e non l'ho gradito per niente. Mi sembra davvero forzato. Non che Andrew sia gay perché era palese fin dalla sesta stagione, però il fatto che di punto in bianco se ne parli così apertamente quando probabilmente una persona col carattere di Andrew non mi sembra una persona che sia contenta di parlare di questo così apertamente, non dall'oggi al domani. E peccato, ci sarebbe potuta essere una crescita molto migliore di questo personaggio che comunque a me non piace ma quantomeno mi sarebbe piaciuto se lo avessero trattato meglio. Finalmente scopriamo che Ania, il fantasma di Ania, non è solo nella testa di Xander, cioè viene percepita dai gatti, quindi esiste davvero, però scopriamo che non è davvero Ania, è qualcos'altro. Quindi quel qualcos'altro non sappiamo cos'è, sicuramente lo scopriremo nel terzo tomo, probabilmente potrebbe essere questo il Phil Rouge che collega tutta la stagione 10, cioè dietro a Ania che parla con Xander ci sarà magari il Big Bad, però anche qui fuori tempo massimo, ovviamente qua si sente tantissimo l'influenza di Brandon che sta scrivendo del suo personaggio e di conseguenza lo approfondisce più degli altri facendolo interagire col fantasma della sua ex moglie, però non lo so, l'ho sempre trovata un po' forzata sta cosa, perché succede proprio adesso, perché non nella stagione 8, nella stagione 9, almeno dammi una giustificazione sul nuovo seme della magia, non tirarmi in ballo che succede adesso perché ha dei problemi sentimentali con Dawn, cioè non mi sembra una cosa logica, però vabbè, vedremo come tratteranno la cosa nel prossimo tomo e speriamo che ci sia un filo conduttore, anche se davvero non è una cosa di cui mi interessa più sapere, però vabbè, la leggeremo e speriamo che pubblicheranno lo spin-off di Angel a Londra con la Magic Town, così vediamo finalmente qualcosa di più bello, sicuramente, anche perché ho tanta voglia di leggere ancora Fate. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.